Un'organizzazione da 50.000 euro di profitto giornaliero, un colosso economico di stampo camorristico. Questo è il giro d'affari nel mondo della droga del clan Giunta. A Torre Annunziasta esiste un traffico di denaro legato al commercio di sostanze stupefacenti da fare invidia alle grandi multinazionali. Di quel commercio fanno parte i più giovani, investiti del ruolo di vedette pusher a soli 18 anni e la cui vita è già segnata prima della maturità. A quella categoria appartengono gli otto minorenni che la Corte d'Appello ha condannato a una pena complessiva di 45 anni di carcere. L'accusa, nei confronti dei giovani, tutti appartenenti al clan dei Valentini, è di reato di spaccio. Gli otto muschilli, così come vengono chiamati da chi li controlla i giovani della manovalanza, vennero tratti in arresto dagli agenti di polizia lo scorso anno. Era il 21 gennaio 2009, quando il comando di polizia locale fece partire il blitz contro lo spaccio di droga in città. L'operazione, soprannominata Fort Apache, fu portata a termine nel giro di poche settimane, con l'aiuto di filmati captati grazie a telecamere nascoste. Dai video registrati fu smascherata la struttura organizzativa dei Giunta. Di quell'ossatura facevano parte numerosi minorenni utilizzati come pusher o vedette poste agli angoli della strada per avvistare l'arrivo delle forze dell'ordine. Il giro d'affari nelle mani degli under era fruttuoso e ben organizzato. C'erano addirittura dei turni da rispettare per non lasciare mai la piazza scoperta e venivano portati pasti caldi alle vedette che restavano in posizione di appostamento per ore intere. Oggi quei ragazzi si sono visti recapitare la pena dalla giustizia. Poco più di cinque anni di carcere a testa, così come per i restanti 22 che decisero lo scorso anno di essere giudicati col rito abbreviato. Molti di loro hanno gradi di parentela con chi conta nel clan, altri sono stati semplicemente arruolati. Quel che conta è altro. Chi è finito in cella ha già perso parte del proprio futuro.